La chiusura improvvisa delle scuole causa emergenza coronavirus ha obbligato gli studenti a proseguire le attività didattiche solo in modalità online, per cui chi è sprovvisto di un tablet e relativa connessione ciò comporta un disagio. L'Istituto di Istruzione Superiore per Geometri Augusto Richi di Reggio Calabria ha coinvolto la Polizia Metropolitana di Reggio Calabria ad un importante progetto. Per gli studenti, sprovvisti di strumenti informatici che permettono di poter seguire le lezioni online, questi vengono consegnati direttamente presso l'abitazione degli studenti degli agenti della Polizia Metropolitana. Infatti, in questi giorni il personale della Polizia Metropolitana sta consegnando le apparecchiature informatiche per la formazione a distanza agli alunni dell'Augusto Richi. L'iniziativa è nata dalla sinergia tra la dirigente scolastica Daniela Maria Musarella, unitamente al direttore amministrativo Roberto Vizzari e il comandante della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria, Domenico Crupi. L'obiettivo è quello di garantire agli studenti sprovvisti di apparecchi informatici di interagire con la piattaforma scolastica e di sostenere gli esami di Stato. La necessità di una consegna porta a porta al fine di non violare le prescrizioni volte ove possibile ad eliminare i casi di contagio, questo è quanto detto dal comandante Crupi. L'esigenza, rappresentata dalla dirigente scolastica Daniela Maria Musarella, è stata rivolta alla Polizia Metropolitana a punto di riferimento durante tutta la fase dell'emergenza Covid-19. Il personale, diretto da Crupi, dopo aver prelevato il materiale informatico presso la direzione scolastica, si è regato nelle abitazioni degli studenti che hanno apprezzato con grande entusiasmo l'iniziativa portata avanti dalla scuola in sinergia con il comando. Gli studenti quindi sono pronti a seguire da casa le lezioni. Tale significativo progetto, unitamente a tanti altri portati avanti sull'intero territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, solidifica il legame tra la Polizia Metropolitana e gli istituti scolastici del territorio, percorso avviato già da tanti anni con incontri su tematiche di legalità.